e giù per di qua TORCOAL! oh manca TORCOAL il ferrogreggio è pesante ti vuoi una sfidarella? eh mancava TORCOAL un po' lentino il nostro amico e lo butta nella lava, attenzione oh ops, sorry hai deciso di averlo buttato nella lava, oddio che cacchio dov'è adesso? ah è questo uuuuutatatiaaa no ooooh ooooh doppio double attenzione 100 punti sei in gamba, facciamo amicizia io e dukter siamo grandi amici e anche te hai pesato terra eh pure vanno tutte le tartarude vanno sottoterra golem parliamo con golem ehi la, sai, io amo molto le cose belle in cambio di cose fatte di ferro e oro ti darò delle bacche fuori siamo 10 ooooh abbiamo entrato il compratore di ferro oh lì ho visto cli 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 neanche niente! Oh, questo mi ammazzano! Eri, dai, con questo suono! Dai! Oddio, ma ti inseguono pure! Aiuto! Sembra tipo un robot! Oddio! Oh! Cavolo! Posta! Sto Clydol! Aiuto! Ci sei fare! Sei degno amico di... Johnny che sai che cerchi! Oh, perfetto, perfetto! Chi ci manca? Boh! Chi è che ci manca? Non ne ho idea! So solo che c'è il... c'è Golem che ci compra i pezzi di ferro con delle bacche, quindi noi ne approfittiamo e ne portiamo giù qualcuno! Ma va a cagare! Hai rotto le balle? Sto torco al... scuse, Golem! Porca vacca! Ma... stai... bastardo! Ok, rieccomi, sono tornato giù con tutti e tre le pepite di ferro e... ho scoperto che... oh! Ma cosa vuoi? Ma anche te ti ci metti? Ma vai via! Ho scoperto che... eh... non ci possono stare più di tre pepite di ferro nel campo Anche perché ho provato a prenderne di più ma me le sostituiva Ah, ferro grezzo! Me lo daresti in cambio di cinquanta bacche? Prenditeli! Se ce li date cinquanta... centocinquanta bacche... è un buon rifornitore di ferro! Ehi là! Hai qualcosa di bello per me? Ah, ferro grezzo! Ah, beh sì, ok, cinquanta bacche... dice sempre le stesse cose! Quindi arriviamo a 2600 Con questo Ma quello che sei bello? Sì, c'è sempre lo stesso pezzo di ferro Vuoi comprarlo? No Grazie E vogliamo 2600 bacche Se dovessi trovare altri oggetti così belli, portami Credo di aver letto così Prendiamo questa cassa Puoi dire che possiamo anche partire... Per il Poké Park Quindi diciamo Driflim Driflim è qua Wow, fighissimo, con lo sfondo di lava Perfetto, perfetto Ehi là, ti porterò in posti con 20 bacche Dove vuoi andare? Andiamo... Alla piazza Si, parte! Si, tornerò per Golem Per parlare con Golem e prendere altre bacche quando mi serviranno Wow Si è dato da fare, Cicorita, eh? Cavolo Ora finalmente ci siamo ritrovati tutti e quattro Già, Pikachu mi ha detto che eravate qui Guarda un po', costruite una casa sull'albero Ehi, per farmi tizia Fuori alla mondo Oh, Pip-lap ha riparato il pallone finalmente Mazza, oh, l'ha riparato, eh? Porca vacca Ma ci sei entrato a te con la testa, per caso? Pensavo ci fosse qualcosa di insolito Infatti è bucato No! No, c'è solo uno squarcio Oh, c'è anche Chatot arrivato Scusate se interrompo, ma vai via Oh, da parte di Mew Una volta raccolti tutti i frammenti di Prisma Vorrei che li portassi all'Oceo Mismajus sa qualcosa su quest'Oceo Celeste di cui parlano le leggende Leggi così tanti libri Troverai Mismajus alla tenuta Una volta lì provo a chiedere a Duskull Ah, Duskull, quello che c'è di qua Oh, già che ci siamo Facciamo anche un po' di power-ups Direi Di partire con Lo sprint Oh, so che sei stato al critere Hai visto quanti Pokémon ci sono? Ah Gratis, così No, perché? Scusate Un doppio sprint Ora puoi usare il doppio sprint Sì, me l'ha già detto Il doppio sprint è una mossa che puoi usare sia sul campo di Una gara Premi uno un istante prima che lo sprint finisca Lo prolungherai Wow Mia sorella è minore andata al critere per l'anella Siete che apparello Vuoi fare una gara con i Pokémon più veloci? Perciò se te leni potrai sfidarla Vuoi potenziare lo sprint? Ah, ecco, ok Sì, mille bacche Il doppio sprint non c'entra nulla, quindi Col potenziamento È una cosa aggiuntiva che fare gratis Se fai qualcosa non ho visto Questa cosa Tant'impegno in allenamento Provo subito Poi mettiamo il tuono Ecco ti di nuovo Hai capito che quante stradine ha il fulmine? Soprattutto perché poi Il milano Trucchetti per il tuono Ah, ma è sempre lo stesso Che trucchetto è? Vabbè Ora dovrebbe versi Tutti Che Ho aumentato la precisione Grazie.